Siete impazzite? Attenta! Oddio, però male l'ho sperato! Sullo skate tutto dipende da te, da quello che provi, da come sei posizionata. Alla continua ricerca di un obiettivo, di una direzione. Del rimanere in equilibrio. Con Urban, però, è un po' più facile. Quello che ci unisce è il surf skate, uno stile personale unico e quella sottile voglia di riscoprirsi e uscire dalla comfort zone. Mi piace dire che Urban Surf Crew è nata un po' a caso, in modo totalmente spontaneo, da una passione comune, da un'esigenza di stare insieme. Una community di amici che surfano l'asfalto, ma che quando l'oceano chiama, mettono lo zaino in spalla e partono. In Urban siamo tutti diversi. C'è chi studia, chi lavora nella moda, chi insegna, chi fa l'infermiere. In questa crew, ognuno dà il suo valore aggiunto. Si dà la possibilità di farti nuovi amici, ma anche di trovare un proprio stile che racconti al meglio la tua personalità. Spesso la gente mi dice con voi non sembra di stare a Milano. Ci siamo costruite in una famiglia acquisita, in una città in cui a volte è proprio facile sentirsi soli.